Siamo pronti per il nuovo pezzo della puntata di TAC che state ascoltando amici amiche di RBA invitiamo a salire sul palco Miss Silvia Uga Ciao, ciao teatro del moscerino, ciao Io da ragazzina sognavo un giorno di diventare un'attrice, una psicologa poi un po' più avanti una moglie trofeo quando ho capito che non avevo una gran voglia di lavorare e infatti questa poca voglia si è protratta fino a oggi quando sono diventata dal giorno alla notte influencer sono un influencer ebbene sì, l'ho dovuto dire a mia madre ma Silvia, ma non potevi rimanere incinta a 16 anni come tutte le tue cugine, oh santo cielo oppure andavi da Barbara D'Urso, diventavi famosa allo stesso, non c'è nessun problema ma no, invece mamma faccio l'influencer devo dire che è divertentissimo, è bellissimo per una serie di motivi, innanzitutto i fan che mi adorano, qualsiasi cosa io faccia mi sostengono incondizionatamente come i parenti alla recita di Natale con la nipotina che interpreta un abete e rimane immobile per tutto il tempo e loro le fanno la standing ovation devo dire che ci sono delle piccole difficoltà, questo sì, questo sì soprattutto nelle richieste allucinanti che mi vengono fatte da amici di amici, cugini, parenti proprio perché ho tanti follower e magari ho un certo seguito non so, mi è capitato uno una volta che senti scusa, non è che mi sponsorizzi questo evento è una serata karaoke organizzata nello scantinato del mio cugino camorrista e sarà ospite la cover band molisana degli Abba ah, e come no, ma ti faccio una storia su Instagram ma sì sì, grazie, sì, oppure anche ricordo senti scusa, io ho uno small business, creo animaletti mutilati all'uncinetto guarda che carino, questo è un koala ciclope se per favore puoi condividere una foto sul tuo profilo mi faresti un po' di pubblicità ma tesoro, ma come no, certo, pure te, sì sì, e questi sono i fan, per carità, alla fine sono innocui poi ci sono gli hater gli hater mi divertono molto mi ricordo uno una volta che mi disse senti donna, invece di pubblicare video torna in cucina e fammi un panino allora la prima reazione wow, il mio primo commento sessista ero emozionatissima proprio perché era così da manuale, no? quindi la mia prima reazione è stata prendo una torta, faccio una festa e festeggiamo questo grande evento poi però ci ho dovuto ripensare un po', dico ma no, ma gli dovrò rispondere a tono non so che cosa dico, che c'è al cazzo piccolo, lo insulto questa roba facile, così, ma no potrei insistere un po' di più magari con qualche frase femminista, qualcosa perché non è possibile che nel 2022 ancora si chiudano gli occhi di fronte a un'ingiustizia del genere no, ma alla fine non mi convinceva niente mi sono scopata suo padre sì, 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 alla fine ha capito, ha recepito il messaggio quella fu l'unica volta che mi aiutò a scopare grazie al numero dei miei follower perché sennò ho deciso che è tutto business non faccio più niente gratis men che meno per gli uomini etero infatti si dà il caso che abbia uno sugar daddy uno sugar daddy californiano mi ha trovata su Instagram quest'uomo e praticamente lui mi paga per le foto dei piedi che vabbè sono un grande classico, sdoganatissimo un business tra l'altro che consiglio facilissimo insomma ce li avete qua, cioè nel senso che è facile e poi mi paga per i messaggi vocali in cui lo insulto paparino, sei un fallito notifica del bonifico sì, sei una nullità, sei disgustoso lo sai vero che le fettuccine al freddo non esistono? sì, sei brutto come una sparatoria in una scuola media a noi vero questo è un complimento per un americano ok, 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 pensa, pensa, pensa non avete la sanità pubblica meno male, meno male no davvero, carinissimo il mio sugar daddy mi ha fatto capire che era inutile ormai controllare ossessivamente l'ultimo accesso su whatsapp di quel cretino con cui avevo incrociato lo sguardo per sbaglio alla fagiolata di Ferragosto di Santia nel 2013 no, io ormai volevo soltanto più soldi e infatti volevo concludere con un appello visto che a noi influencer viene spesso chiesto di utilizzare la nostra piattaforma per arrivare in modo capillare ovunque bene, anche ai nostri gentili ascoltatori di Radio RBA o chi ci sta seguendo da casa in tv chiedo se tra di voi o tra le vostre conoscenze c'è un miliardario, un ereditiere uno che sta investendo negli NFT uno insomma di quel genere io sono sempre pronta a rispolverare il mio vecchio sogno di diventare una moglie trofeo grazie e seguitemi su TikTok ciao